Musica Ma tanto non solamente in solo paese, tutti erano in guerra, pure la televisione, si vedeva che c'erano tutti questi giovani che si facevano la guerra con le pistole, o che poi certi giorni addentro il paese scoppiava proprio la guerra totale. Allora mia nonna mi chiudì a doppia, mi è andata dentro a casa e mi diceva, figlio non si potessi, figlio fermo non uscire che è scoppiata la guerra, è scoppiato lo sciopero generale. Allora capivo la rosa, che è vero che un paese vuol dire non essere soli, ma è vero pure che un paese tenere la memoria lunga, è la lingua più lunga della memoria e non si scorta. Ci viene un tremolizzo la rosa, cominciò a sbattariciare dentro la stanza, ci viene un tremolizzo e cominciò ad andare verso l'olietto con cercare il poso, con cercare il getto e alla fine piano 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 piano, piano sonno, si addormentava. Qua intanto vediste la morte di entrare dentro la borsetta, ma ora la borsetta non era più una borsa, si era trasformata e diventata fonda come un puzzo nero e l'arca, come una grotta e la morte cominciò a sbattariciare, a binchare con l'anchi, con le spade, con le mani, con la faccia e la perra, gritando non è rosa, lascia me, sacco, sacco, pano, sacco, pure la morte di tra lo sacco, 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 pano, sacco, non è rosa, lascia me stare rosa, fermate rosa, sacco, sacco, pano, sacco, pure la morte di tra lo sacco, 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 pano, sacco, non è rosa, lascia me stare rosa. Altri dicono che no, che quello sta in Ardotto dove c'è una professoressa di matematica che è innamorata lui e lo sta proteggendo, e mo' di fronte a noi non c'è lo cicillissa. Sindaco, dato che hai fatto un investimento, ovvero sì, ero andato a comprare un albero da frutto, stamattina ero andato ad assaggiare il frutto del mio investimento, ovvero sì, come scordo una susina dall'albero e come la provo. Beh, nel mentre che sta a me scudare dalla susina, ci sono uscito con la mozza, che hai visto, quando c'era uno che sta a me guardare, i due mi guardare e io lo guardare, i due mi guardare e io lo guardare. Allora ci mo' posti a disfida, i due guardare, 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 e alla fine ci ho visto che l'ho fessa, è asciuto con se scunde, arredo una casicetta, allora ci ho fatto. Allo tornare con lo motorino ho fatto finta che mi cascano queste susine in terra e mentre che mi piegavo con il ragoglio le susine, l'occhio mi giocava. E mentre che l'occhio mi giocava, ci ho visto, non uno, non due, ma addirittura tre, eh? C'è i cristiani. Sindaco, è arrivato l'Umesina! Maurizio, purcala, è arrivato l'Umesina!